Bene, ed eccoci ritornati in studio, allora dopo i problemi della guerra, come si diceva prima della pubblicità, in questa nostra parte del memento, questa sera parliamo dei problemi dell'ambiente invece, dei problemi dell'ambiente in Veneto, Ermanno, perché ci sono delle grandi opere che si stanno costruendo e ci sono dei problemi ambientali, l'impatto non è un impatto, come si dice, innocuo? Come tutte le opere naturalmente interviene l'uomo per modificare, per fare determinate opere che risolvano i problemi, per esempio della circolazione stradale e tutto il resto, questo è il caso appunto della pedemontana, ma non è quello che si fa e come lo si fa la problematica, cioè si può fare una cosa in una certa maniera, se il territorio lo consente, oppure può essere che si possa anche sbagliare, siamo uomini e quindi siamo soggetti a degli errori. E allora affrontiamo questo problema della pedemontana che si trova a costruire una galleria che poi non corrisponde al progetto iniziale, ma è stata spostata, è stata spostata purtroppo senza fare quelle analisi necessarie eccetera e quindi ci si trova di fronte a una discreta difficoltà. In questa difficoltà naturalmente per risolverla sono stati impiegati materiali di vario tipo. Il problema che noi stiamo analizzando oggi, sono compatibili con l'uomo, con l'ambiente oppure abbiamo delle difficoltà e creiamo invece, risolviamo un problema ma ne creiamo degli altri? Questo è l'argomento appunto che adesso affrontiamo con il memento, con la nostra ospite che naturalmente è guerrita e competente in questo caso. Certo, è competente in materia. Io saluto la dottoressa Marina Leicis, buonasera dottoressa, grazie di essere qua, è una consulente ambientale. La ringrazio per essere tornata perché con lei stiamo seguendo da tempo appunto le vicende legate alla realizzazione della Pedemontana Veneta e in questo momento ci sono dei problemi proprio per la realizzazione di alcuni tratti che sono in galleria perché stanno attraversando una zona particolare. Cosa sta succedendo? Dove siamo? Sì, allora siamo nel comune di Castelgomberto e la galleria sta attraversando le poscole. Le poscole sono un sito di interesse comunitario quindi è tutelato e non sono altro che strati di argille con ovviamente acqua, tanta acqua risorgive e questo sotto praticamente e sono un sito unico al mondo e ce l'abbiamo proprio in Veneto e in provincia di Vicenza. Ecco, la galleria che si sta realizzando passa sotto questo terreno. Esattamente, la galleria la stanno scavando dalla parte di Castelgomberto verso nord e quando hanno iniziato proprio i primi giorni a scavare questa galleria si è creata una grande voragine, quindi uno sprofondamento e questo è stato nel 2017 e tant'è che questo grave sprofondamento ha dovuto, sono dovuto intervenire e addirittura spostare l'alveo del torrente Poscola. Allora ci fermiamo un attimo e facciamo vedere il contributo che ci hai mandato così la gente si rende conto di cosa è successo, come è successa questa implosione del terreno. Certo. Sono dove c'è la voragine, quella del 2019, che è stata ricoperta di terra, vedete, ed è sprofondata, siamo sotto un metro, quindi non è stabile, non è stabile ed è per questo che ho chiesto di entrare in galleria potendo filmare tutta la tratta perché sono visibilmente preoccupata di questo effetto di bradicisma, vedete, vedete, quindi anche se è stato coperto con la terra è sprofondato. Ecco abbiamo fatto vedere, così i telespettatori si rendono conto, quella era una implosione, cioè c'era una frana molto fonda, è stata coperta con la terra, quindi non è solo un abbassamento del terreno, quello è successa una voragine ed è stato riempito poi per evitare che succeda qualcosa. Esattamente, questa poi è la seconda voragine che si è creata nel 2019, successiva, quindi andando sempre verso nord, ma a poca distanza dalla precedente, proprio perché ci troviamo in questo particolare ambiente delicatissimo, ricchissimo di acque. Io avevo già segnalato nelle puntate precedenti che l'aspetto idrogeologico su tutta la tratta della galleria della Pedemontana Vanetta era stato sottovalutato. Ho capito. Allora, in questa situazione naturalmente chi costruisce la galleria deve cercare di realizzare, perché non è più un terreno roccioso che era previsto precedentemente, ma ci troviamo in un terreno instabile. Quindi usano delle tecnologie particolari. Che tecnologie usano? Ecco, quindi scavando, loro tra i due spazi, diciamo, che si formano per costruire la galleria alla volta, hanno dovuto inserire delle sostanze che noi genericamente chiamiamo spritz beton, ma hanno varie denominazioni. In sostanza è come il cemento che si rapprende, non è però appunto solo cemento, ma è costituito da altre sostanze che dovrebbero rendere impermeabile la volta per impedire che l'acqua di falda e delle risorgive entri all'interno quindi della galleria, per proteggere proprio l'opera. Ho capito. Allora, qui con noi, se la regia ci fa vedere i nostri telespettatori, abbiamo dei frammenti che sono stati prelevati appunto sul luogo. Questi frammenti stanno per essere analizzati e dovrebbero contenere anche delle sostanze che non sono compatibili con l'ambiente. Naturalmente questo non possiamo ancora confermarlo, ma il sospetto è che siano stati usati delle PIFAS e allora questa situazione andrebbe contro quello che è invece la situazione dell'ambiente. Avendo delle falde in prossimità, delle falde molto importanti perché naturalmente sono quelle che creano l'instabilità della galleria, allora utilizzando queste cose è chiaro che quelle falde poi saranno inquinati o inquinabili, quindi chi costruisce questa galleria deve stare molto attento a non usare materiale che poi rimanga all'interno dell'ambiente e vada nelle secoli futuri ad inquinare e non poter più utilizzare le falde idriche che noi abbiamo assolutamente bisogno perché in questo momento abbiamo una siccità talmente importante che se noi beviamo l'acqua da rubinetto è acqua che viene dal sottosuolo e abbiamo già visto che in altre zone, dottoressa, questa acqua viene prelevata, deve essere filtrate e poi messa negli acquedotti. Certamente e abbiamo avuto un grossissimo problema proprio con la Miteni dove la Miteni per anni ha inquinato le falde, pertanto adesso i gestori delle acque hanno dovuto abbandonare i loro pozzi perché diventava anche troppo costoso utilizzare questi filtri a carbone attivo per purificare le acque e hanno deciso di abbandonare i pozzi e questo è proprio disastro ambientale quando succede questo e hanno dovuto cercare l'acqua più a monte ma se noi continuiamo ad avanzare ed inquinare sempre di più tra un po', come diceva lei professore, rischiamo di rimanere senza acqua. Certo e quindi il problema è siccità e l'unica possibilità di sopravvivenza della Valpadana è utilizzare l'acqua sotterranea ma che non è all'infinito e quindi dobbiamo stare molto attenti e riservare e avere cautela quindi giustamente stanno facendo delle opere che servono ma naturalmente devono essere opere compatibili con l'ambiente, prego dottoressa. Sì esattamente, poi c'è un altro problema che con questo abbassamento proprio così verso il centro di questa valle dove proprio si sta costruendo la galleria li vedete hanno anche fatto delle modifiche idrauliche dei canali agricoli proprio di e che cosa succede adesso? L'acqua non scorre più e si ferma in prossimità proprio di queste voragini ricoperte e quindi si sta creando anche un peso maggiore perché sapete che l'acqua ha un peso grandissimo e quindi si formano proprio quasi dei laghi e lì l'acqua adesso è stagnante e pensate che per mesi non ha piovuto ora aspettiamo le piogge che speriamo che non arrivino ecco io lì sono proprio che sto prendendo un campione vedete che sta proprio uscendo dal terreno ed è tipo un fango che poi solidifica e diventa quel bianco giallognolo a seconda della composizione eccetera ecco lì vi dicevo dovrei avervi anche mandato delle fotografie proprio di quest'acqua stagnante e che non sgronda più quindi ecco questa è proprio una delle fuoriuscite di spritzbeton molto importanti vedete che ha ricoperto anche il canale di irrigazione perché lì appunto passano anche dei canali e quindi sono stati ricoperti se la regia vuol far vedere questo è un frammento asportato dalla zona che abbiamo con noi che sarà oggetto di analisi perché quello che è importante è fare le opere farle bene e naturalmente hanno le loro difficoltà le opere non è semplice farle ma naturalmente nel massimo rispetto di quello che è l'ambiente perché poi queste cose rimangono nel tempo certo ecco e appunto come vi dicevo ecco vedete qui addirittura c'è stato un ritorno di questa sostanza che è entrata in un tubo perché avevano diciamo tombinato un canale spesso si fa cioè non rimane l'acqua in superficie ma viene canalizzata e in questo caso qui c'è stata talmente tanta fuoriuscita di questa sostanza che usano per impermeabilizzare la galleria che addirittura è entrata dentro questo ecco diciamo il nostro testo questo non è materiale naturale no non è materiale naturale questo è un materiale artificiale che serve per isolare naturalmente la preoccupazione è questo materiale non inquini esattamente va bene mentre c'è la possibilità invece che possa contenere ad esempio come dicevamo prima dei pifas sì ecco perché ci sono state anche delle analisi sì esattamente allora questa è un'ipotesi una delle varie ipotesi logicamente noi andremo a cercare queste sostanze come anche ARPA le andrà a cercare perché è stata accompagnata dai carabinieri dei servizi forestali dei forestali perché hanno visto anche loro tutte queste sostanze che sono emerse nel terreno perché stanno monitorando l'area protetta dalla comunità europea logicamente e siamo in attesa del risultato delle analisi di ARPAV che poi sono le analisi ufficiali perché l'ARPAV è l'ente preposto per la regione Veneto e quindi sono abilitati a fare i campioni e quindi quando usciranno queste analisi che saranno anche quelle ufficiali noi poi ci stiamo anche organizzando come fare dove portare i nostri campioni perché ne sono stati prelevati diversi e quello più significativo o tra i più significativi verrà poi analizzato logicamente si fanno sempre più prelievi ecco, spiegiamo ai telespettatori qual è la sua funzione in questo caso lei dalla parte costituita parte civile ho una duplice funzione sono sia consulente di parte in un processo civile che è in corso e quindi alcune cose si possono dire alcune no e la pedemontana ovviamente è la chiamata in causa poi sono anche consulente di un imprenditore agricolo di un agricoltore che è proprietario proprio di quel terreno quindi sono anche abilitata nella tutela del terreno che comunque è stato dato sì in affitto per costruire la pedemontana però non deve essere contaminato nella parte superficiale quindi io sono abilitata in questo caso ufficialmente a poter a controllare che i lavori vengano fatti bene esatto, per elevare anche dei campioni se ci sono delle anomalie e anche vedere come la regimazione delle acque viene spostata lei ha accesso alla galleria? ecco, allora noi alla galleria abbiamo avuto accesso una prima volta da Vallugana Bassa da quel cantiere lì perché ci ha autorizzato il giudice e questo è successo a dicembre 2021 e ieri abbiamo avuto di nuovo un altro accesso dal giudice per entrare da valle quindi dalla zona dei fornelli dalla zona delle poscole e quindi anche con il consulente del giudice il CTU e con i consulenti di parte ma per il momento è stata rimandata perché ci è stato impedito di poter fare delle video riprese delle fotografie cosa un po' anomala perché la volta precedente noi le abbiamo fatte regolarmente ovviamente fotografie riprese che rimangono a noi per il nostro studio e la nostra valutazione che assolutamente non vengono divulgate per tutelare ovviamente l'impresa e il progetto e la progettazione ma questo è normale insomma si fa normalmente quindi chi lavora lo sa che deve stare attento e quindi ci siamo allora rimessi al giudice e adesso faremo una relazione scritta la depositeremo e chiederemo ovviamente di poter filmare fare fotografie perché è nostro diritto documentare quello che sta succedendo e se viene fatto correttamente non contro l'ambiente o la popolazione che abita là quindi la avremo ospite in futuro speriamo che non succeda niente che le cose vadano per il verso giusto perché questo è importante sia per la pedemontana ovviamente sia per la ditta che lavora e anche per le persone che abitano sul luogo questa è una giusta diciamo attività che serve a tutti grazie 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 alla dottoressa Marina Leicis allora consulente ambientale per essere stata con noi torneremo sulla questione come la stiamo seguendo ormai da tempo e ovviamente ci auguriamo che anche le problematiche che queste problematiche possono essere risolte rapidamente in modo positivo chiaramente ma è importante anche controllare verificare che non possono esserci poi conseguenze peggiori in futuro grazie ancora a Marina Leicis per i telespettatori andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo e parleremo della Nato parleremo del patto atlantico della sua storia e di quello che è diventata oggi ma lo facciamo tra poco grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori